Il suo volto a 5 anni è rimasto impresso nei miei ricordi. Il Centro Nazionale per i Minori Scomparsi ha pubblicato un'immagine che raffigura l'aspetto di Brooke Lynch all'età di 35 anni. Credo di essere io sua figlia Brooke. Lei chi è? Mi chiamo Nancy. Penso che mia madre possa avermi rapita. Circa 30 anni fa. Mi spiegherebbe tante cose della mia vita. Vogliamo vederti il prima possibile. Ho pensato richiamare un investigatore privato. Ci farà il test del DNA e anche qualche domanda. Il risultato arriverà in due o tre giorni lavorativi. Ho cercato di convincermi che tu vivessi in una bella famiglia. Non ho mai smesso di sperare che Brooke tornasse. Non voglio vederla soffrire. Ti ricordi quando lei pestò un chiodo? Avrà ancora la cicatrice. Questo cos'è? Cosa combini? Mecca, sei diversa. Ci sono cose che non sapete. Che cavolo ti prende? Che non vi ho detto. Nancy, va tutto bene? Sei pazza? Nancy! Non possiamo sapere che cosa accadrà. Nancy! Baby! Perché hai fatto una cosa del genere? Che cosa accè? Quindi quando noi stiamo cantiamoci. Che cosa accè? Che cosa accè?